Musica Essere a Sueveria si conferma come uno degli appuntamenti più antichi e più prestigiosi dell'estate meridionale. Quest'anno il motto è Bianca come la notte per ricordare i vent'anni dell'invenzione della notte bianca che è avvenuta proprio a Sueveria Mannelli nel 1997 grazie all'assessore al dissolvimento dell'ovvio che era Giordano Bruno Guerri che per l'occasione ritornerà la notte dell'11 agosto per celebrare i fasti di quella invenzione. Altre iniziative come sempre sono presenti a tutto campo dal teatro al tennis, dalla danza alla gastronomia, dall'arte alla pittura. E poi gli appuntamenti canonici come l'università d'estate giunta alla tredicesima edizione che quest'anno avrà come docenti Giordano Bruno Guerri, Ciriaco De Mita e Magde Cristiano Allam. Il premio Calabria Ambiente sarà assegnato a uno degli intellettuali più importanti del nostro Paese, Salvatore Settis, calabrese di Rosarno e già direttore della Normale di Pisa. E poi tante altre iniziative scandiranno questa nostra estate distinta dalla lettura con una serie di presentazioni di libri che si snoderanno per tutto il mese di agosto e anche in parte del mese di settembre. Un'estate tutta da vivere, da inventare, un'estate per pensare a Sueveria Mannelli. Grazie a tutti.